si laureano mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea mandiamo i carabinieri ma li mandiamo con i lanciafiamme mandiamo i lanciafiamme ma li mandiamo con i carabinieri mandiamo i vecchi vecchi cinglialoni della mia età che andavano a correre senza mascherine allora adesso ci avviciniamo a pasqua mandiamo pastie con i lanciafiamme